Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi su Nulz Royale faremo un chest opening che neanche in pochi che hanno questi server possono fermarsi. Innanzitutto abbassiamo la voce. Andiamo qua. Allora, apriremo queste carte a caso. Oh, non ci posso credere! Sto buono del leggendario, mamma mia, mi ha stimolato. Sto buono del leggendario, non ci credo niente se lo vedo. L'ho pure sbloccato, guardate. Ora facciamo, apriamo queste case, velocemente una casa compatibile. Allora... Perché non ho messo le truppe? Mamma mia, pecca, risuola. Ok, allora, il Cavaliere Nero è molto utile. Scusate. Ora vediamo il leggendario, il leggendario è sicuro. Eh, mi conviene. Ora... Ora... Allora... Allora, innanzitutto... Voglio potrezzare un attimo queste cose. Andiamo a fare un po' un marchierino. Questo è il mazzo definitivo. Ma invece ora voglio usare un altro mazzo. Intanto lo faccio... Così... Almeno sono più affrontaggiato. Non è il mazzo 2. Ora apriremo una casa da 20 skip. 108.000 di oro. Orde di skip. Barile d'ossa. Toro infernale. Clonazione molto utile e sbloccata. Gigante Goblin. Gigante Royal. Veleno. Shelly. Qui c'è la leggenda dopo. No. Mini pecca. Tre moschettieri. Scheletro gigante. Qui c'è la leggenda. Chi uscirà mai? Non lo sappiamo. Gang di Goblin. Barbari scelti. Drago elettrico. Razzo. Ma... Scusate. Restrettore di Rizir. Vado a vedere un secondo. No. Vado a vedere che sta facendo. E' come ultima carta. Minatore. Sbloccato. Sta in cameretta a giocare. Ma sta in cameretta a giocare. La devo controllare? La devo controllare? Ragazzi. Devo controllare. Comunque. Molto interessante. Molto interessante. Aspettate che apro il mio lettino. Dove registro. Ecco qua. Allora. Ci possiamo potenziare. Shelley. Che non è male. Poi negli altri mazzi. E ci facciamo un altro mazzo direi. Vabbè. Dopo useremo la gang di goblin. Poi ragazzi. Mi posso potenziare. Il draghetto. Il draghetto. sempre conveniente. Sempre conveniente. Poi ragazzi. Il gigante. Che lo andremo a utilizzare. No. Porca miseria. Beh. Devo riponare un altro deck. Mi faccio uno forte. Mi potenziare. Mi potenziare. Mi potenziare. Mi potenziare. Mi potenziare. Che mi serve. Livello 10. Bene. Ora andremo ad aprire. Ragazzi. Fortunata. E fortuna. Vabbè. Basta. Giustamente. ora io direi posso iniziare a potenziare le cose iniziare poco qui sono tutti sono tutte cose un po' inutile allora andremo a spacchettare questa cassa velocemente prima leggendaria seconda leggendaria si terza leggendaria quarta leggendaria e la quinta ci fa schifo vero ora con questo mazzo andremo a fare una partita ho un mazzo 10.10 allora muori sai che attiva tu e lo distraiamo con poi li infuriamo ehm non faccio il tempo infuriarli porca miseria porca miseria questo qua è fortissimo oh basta eh perché ho detto buona fortuna vabbè ora apriamo questo baule dove non troveremo niente vediamo nei mazzi se ci dobbiamo potenziare qualcosa e usiamo questo mazzo dai dai ragazzi allora io mi chiamo calma si lo so perché ok che sfiga porca miseria eeeh mamma mia tu resisti sì sì porca miseria porca miseria un bel danno un bel danno dai sì sì devo stateli eeeh ciao a tutto sto qua a tutto eh c'è memore guardate mo li crepa la torre mo li crepa la torre la torre sì dai eeeh eeeh no raga e vabbè ha chiuso no 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 Grazie a tutti. Faccio un deck con tutte le carte che mi devo potenziare e le potenze pure. Grazie, sarà un fallimento, io ve lo dico. Non ce la farò mai. Questo neanche mi va di metterlo. Ragazzi, ma la perdo. Cioè, guardate che schifo di mazzo. Un secondo, che c'è? Sì? Che c'è? Che c'è? Che c'è mamma? Gabri ha detto che è impegnato, però noi potremmo andare a vedere le stelle in terrazzo alla mamma di te. Oggi è la notte delle stelle cadenti. Eh, ma i nonni non ci sono. E c'è le chiavi. Se ti nasce, no. Mmm, no. Beh, comunque adesso. Sarà un fallimento. Io lo so. Ciao. PORCA MISERIA Fai schivo Frecce e frecce facciamo PORCA Fattori danni interessanti alla torre però Poi sopportiamo la principessa che muore Principessa perché muori? Cosa? Nooo Andiamo Crepala Sì Crepala Scusate Vuoi competere? Fatti sotto PORCA Nooo Grazie troppo Meno 20 Dai Ragazzi Ora farò un mazzo Pesante Pesante Lo ci vuole sempre Maglone Furia Passo La terremota Poi Mi potenzio tutto il mini pecca I mini pecca sono la vita Nooo Noo Noo offerta Noi ragazzi Facciamo un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Costruibile Mi potenzio tutto il mini pecca Potenzio tutto il mini pecca Potenziamoci Queste cosette Un attimo che mi colgo la maglia E vai ragazzi Evan Allora Mo ci deve Crepare Se vedete perché Perché così posso fare Clone Ecco L'altro va Dietro Guardagli Ti distruggo Ti distruggo Scegli C'è la nostra speranza Vai Infuriati Noo Se ne è furiato Noo Tutto abbiamo vinto Sì Sì ragazzi Vai così Calma Vince Calma Vince Sempre Dai Questa me lo sento Fortunata Uh Quanti pipistrelli Li uso pure in un mazzo C'è lì Guarda che teletro Ragazzi Le leggendarie Di oggi Secondo me Conviene più la principessa Perché è sparata più lontano Quindi Non ho chance Di dirlo tutto ce l'ho Ok Allora Scusa Terripoto Scusa Uh Il principe Mamma mia Non lo trovo mai Il principe Apriamo un'ultima cassa Allora Barbari Frecce Barbari Cannone Un mortaio Io direi il mortaio Perché me ne devo ancora potenziali tanto Goblin Ok Arrivo poi i moschettieri Che do Le curie non mi servono tanto Neanche Che c'hanno Allora Io sto preparando una specialità Sì Che è una specie di sughetto Quei peperoncini quelli di nonno Ok Allora Allora Siccome È poco Proprio Proprio sugo I peperoncini su grande Li puoi scanzare La peperoncini su grande Sì Sì Mamma mia Mamma mia Da quanto non li trovo Scegli perché lo sono il mazzo Come scelgo Cioè tu mi devi dire come scelgo qua Tu mi devi dire come scelgo Porca miseria E ora come faccio a scegliere Porca miseria Porca miseria E ora come faccio a scegliere Il minatore è una belva con la scintilla Il mastino la vi con la belva con la pinci La principessa Ehm Cosa nemm Ok Lo strigone di ghiaccio Ho un bel po' di oro Quindi direi che lo posso andare a Utilizzare Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 7 carte su 113 di cui me ne mancano tantissime comuni e mi manca il domatore. Ah, me lo sono ristallato perché avevo un po' di problemi. Ok, se mi esce qualche... Sì, grazie, grazie. Grazie. Guardate che bestia che è, grazie. Se lo faccio una cosa, io faccio un'ultima partita che devo andare a tavola con... Un secondo... Faccio un'ultima partita, ragazzi. E poi stacco... Floor... Allora... Uso la stessa tattica di... E l'infurio pure. L'infurio pure. Non mi distrugge il clone, sappia. Un secondo, mamma. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Ragazzi, manca tanto così. Mamma, un secondo, dammi un minuto. Faccio sempre la stessa tattica, ragazzi. Faccio sempre la stessa tattica, ragazzi. Come? Come? Ma un secondo, ho detto un minuto. Non è ancora passato un minuto. Non è ancora passato un minuto. Beh, ragazzi. Io la perdo. Vabbè, ragazzi. Io la perdo. Boh, l'ho fatta togliere la parte. Ma comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Niente, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao.